salve a tutti ragazzi bentornati nella sesta parte credo si sesta parte di outlast allora nella scorsa parte praticamente abbiamo finito con rompendo praticamente tutto quello che vedete ma soprattutto con chiamiamolo un handicap ovvero quello di non poter vedere al buio perché perché la nostra videocamera è caduta qua sotto e chissà come cazzo faremo a recuperarla lo scopriremo spero immediatamente perché ci serve cazzo tra l'altro con questa mancanza non possiamo visitare le parti al buio di conseguenza in tutto caso dovessimo farlo ci ritroveremo con molta difficoltà perché non riusciremo a vedere niente intanto ho visto cosa sbruccicava ha una pila però sai dove me la posso infilare questa pila non lo dico comunque non so assolutamente dove dobbiamo andare aspetta qua c'è una porta che non abbiamo aperto ma non si apre soltanto per estetica ma non è che dobbiamo andare là per un attimo perché qua è buio quindi non credo che ci possiamo io ci vado di spalle no ok non so non so se c'è un muro invisibile che non mi permette di andare avanti perché abbiamo bisogno della camera sì molto probabilmente così ok allora dobbiamo fare in modo di scendere essenzialmente dobbiamo andare giù oh cazzo qua è buio ma qua non credo di esserci andato meglio ok perfetto dobbiamo fare in modo di raccogliere di nuovo la nostra camera c'è qualcuno che si sta facendo la doccia non voglio ridisturbare ah no ok oh perfetto qua scendiamo that was also convenient e qua non c'è niente quando ci scommettete che ora spunta uno stronzo qualsiasi farmi cacare in mano ecco vabbè era un po telefonata la cosa dai tra l'altro non so oh no e porca di una troia di nuovo sono so balzato dalla sedia tra l'altro non vedendo dove cazzo vado non so nemmeno in che angolo posso aspettarmi il jumpscare senti coso ha un altro coso c'è porca di nuovo è ancora più inquietante qua cosa c'è io cammino di spalle per come dire per evitare brutti incontri vabbè devo andare per forza di qua dai ma questa cosa è terribile la videocamera si raccoglila sfonda qualcosa basta che la raccogli dai non dimmi che non puoi allungare la mano cioè ci riesci benissimo pure mia nonna in carrozzina è priva di ok ah ok perfetto credevo perfetto pure l'obiettivo ottimo ci mancava il vetro cozzio mi sono caccato sotto oddio pure l'interferenza abbiamo il vetro spaccato l'interferenza è la fregna della madre che mi sta inseguendo di qua siamo venuti mi sembra si però l'unica cosa positiva è che abbiamo 10 su 10 batteria almeno sta cosa dell'obiettivo mi dà un fastidio no di qua no di qui no porca troia dimmi che c'è un armadietto buonasera ma poi tre perché tre dove cazzo sono venuto comunque sto ritornando indietro apposta per vedere se c'era qualche altra parte che potevo visitare eh sì no non è vero ah sì basta no dai ci potevi passare benissimo qui no ovviamente no qui nemmeno sì no qui sì ah vabbè qua ritorniamo indietro credo fosse una zona nuova vabbè dai abbiamo un minimo di vantaggio no ora con sto cazzo l'ora di cosa che che non si infila rapidamente no non abbiamo più un vantaggio qui no regà dove devo andare dai non fatemi spiegare tutte le batterie che poi mi metto a piangere ma dai però come cazzo mi avete raggiunto porco di un cazzo ah devo saltare cazzo non ci avevo fatto caso ma pure voi fate parkour bravi dai ritornate indietro e mangia qualche cosa perché sei magrissimo tu ok va bene abbiamo la nostra camera tra l'altro ho premuto R anziché F sono un genio vabbè là c'è una carta comunque io perderei ore ed ore ad esplorare il tutti gli angoli a vedere che cosa hanno messo cioè se un gioco è molto dettagliato dettagliato sì come questo ne vale proprio la pena di vedere un pochettino come hanno fatto determinate cose anche soltanto stare là come un coglione a fissare una porta tipo vedere come hanno fatto cioè per esempio guardate quanto è dettagliato non c'è un cazzo di dettagliato soltanto per fare uno sketch ma era alquanto cringe ah qua sotto ok non l'avevo visto perfetto ora credo che possiamo andare di nuovo in quella zona e credo che adesso i muri invisibili se ne siano andati che facciamo il giro voilà perfetto cerca padre martini in amministrazione che c'è scritto in amministrazione ok proviamo a saltare ok follow the blood no queste interferenze mi faranno cagare sotto aspettate però qua c'è una una way dove posso andare no donna mi sono rotto il menisco solo una way out solo una way out ma non mi fai niente giusto vabbè io per sicurezza ti chiudo la porta però non è perché non mi fido è perché non mi fido non mi fate cagare sotto eh perché sta laggando ok wow una zona un minimo più ordinata dico un minimo perché effettivamente la zona di poco fa sembra proprio la tazza del cesso in confronto ma chi ne avrebbe mai detto che in un gioco horror piovesse mamma wow tra l'altro una pioggia che è durata un'ora e 48 minuti tipo il tempo della registrazione perché ci sei pure tu c'è di nuovo il nostro amicone qua non c'è niente madonna del ponte però non c'è niente non c'è niente no 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 prova a passare di qua no col cazzo che mi raggiungi eh sì però questo ora resterà tutto il tempo dove stai poggiato? allora facciamo un attimo un ragionamento no 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 resta un attimo qua allora lui innanzitutto vediamo dove va lui per così in base a dove va lui io non ecco proprio nella zona dove volevo no aspettate là sotto non ci sono andato prima di andare là sotto correndo però quanto mi destabilizza con quella cosa rotta ma dai mi stava aspettando ti pareva ti pareva no 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 vabbè però scusate se lui occupa tutto il corridoio non posso sviarlo non è che colpa cioè mi dovete dare un pochettino una chance di di fare qualcosa tra l'altro dove cazzo mi posso nascondere nascondiamoci un attimo qua sul camino comunque forse dovevo chiuderla con la porta perché effettivamente ora viene qua ecco no 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 ma perché mi rimiri mi piglia e mi guarda negli occhi tanto lo so che c'è una raccia di cazzo che è successo intanto cosa c'è qui si 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 la sopra la sopra la sopra la sopra ok doppia via anzi tripla via andiamo un attimo di qua giusto per la maniera di esplorazione che c'ho uh documento io spero che questa porta sia chiusa così lui non mi entra alle spalle guardate ragazzi sono due documenti no vabbè sono un coglione stavo giocando con il doppio riflesso rotto che c'è qua leggiamo ciao sindy stamattina ho avuto un'altra conversazione interessante tra virgolette con billy dice di aver parlato nuovamente con il dottor wernicol wernicol riguardo alla sua terapia nel posto bianco mi disturba notare come le sue allucinazioni siano peggiorate con la somministrazione della cura è un effetto del genere non è incluso fra le controindicazioni della benzodiazepine vabbè un altro nome che ci possiamo infilare in ogni caso il suo caro dottore mi sto mettendo comodo quindi se sentite casino è per questo il suo caro dottore morto gli sta riempendo la testa di altro folclore tedesco ah folclore tedesco a quanto pare l'unica cosa in grado di uccidere il wall rider sono delle farfalle vampire vomitate da un demone di nome horcrzy horcrzy comunque le farfalle risucchiano il respiro dalle labbra delle persone e bevono sangue dai loro capezzoni ok come la nota che abbiamo letto nella scorsa parte possono anche assumere le sembianze di smonti maiali ah smonti ok smonti maiali su due gambe o di cani malati quindi billy è stato fortunato hai detto che ha parlato dei tatuaggi di una madre in passato per caso non era a forma di farfalla la prossima volta che potrò superare il firewall della markov cercherò online se si tratta davvero di folclore tedesco o se billy si sta inventando tutto di sana pianta un giorno di questi mi piacerebbe confrontare i nostri appunti non sarebbe male farlo davanti a un bicchiere di vino con una faccia che mi sta venendo i vermi qui qui al seco qui al 2 soffro un po' di solitudine kurt ok in generale lui ha voglia di vino se volevo arriva beh comunque sono interessato questa nota mi ha particolarmente interessato che cazzo è successo sento la la musichetta dell'azione ma non vedo come si chiama lo stalker la vabbè oh cazzo ah no dobbiamo andare di qua perché siamo venuti da lì ah no qua non c'è niente quindi dobbiamo soltanto andare dritto ma c'è un'altra way ok non c'è niente nemmeno qua mi scusi devo fare questa operazione poco poco ortodossa ma qua siamo all'inizio no vabbè non ditemi che siamo praticamente nella zona cioè questa praticamente è la zona sì perché là c'è il vetro frantumato la zona dove lo stronzone gigante di poco fa ci ha praticamente buttati di sotto siamo all'inizio wow mi sento un po' tipo in resident evil quando succedono le cose che ritorni all'inizio se tu mi hai detto devi dirti il cazzo sta parlando innanzitutto ah ecco ok grazie recuperare la chiave elettronica dalla sala ricreativa deve andare a cena l'ha chiamato la madre per cena quanto sono belle queste porte wow addirittura la musica tranquilla tra l'altro questa interferenza mi ha fatto spaventare aspettate però là c'era una di altre no dai fammi fammi ritornare là non fare lo strono ok c'era un'altra zona che non ho visto aspettate no vabbè allora possiamo continuare volevo vedere se magari riuscivo a trovare altri documenti batterie solite cose più cose abbiamo meglio è di nuovo il telefono mi rompe le palle perdonatemi ok qua non c'è niente ah però c'è una scala che l'avevo vista però l'ho ignorata non so il perché perfetto ah qua devo fare altro parkour o parkour dipende le interferenze di sto cazzo comunque siamo arrivati quasi a due ore di registrazione nella nostra videocamera posso dire che questa musica mi sta inquietando più no vabbè non volevo interrompere se lei vuole suonare faccia era una mia considerazione la faccia del di essere liberi ad esprimere un proprio pensiero libertà di espressione è zero in questo manicomio che cazzo questi sono tipo dei pesi cosa sono ok la seguiamo vi state guardando un film quella la exito interviene recorre dicembre 27 1985 in Los Alamos New Mexico clearance Sierra Alpha subject Dr. Rudolf Wernicke 14866 I film sono reali. Non c'erano alterazioni al film? Non c'erano triggere? Non. In giunio 1943, tu registrati tre instances di spontanese bleeding. Un po' di mezzo di test subjecti iniziò a sviluppare tumori? Si. La auto-obsessore sento che i tumori erano pure lì. Ci ha matato? Posso esprimare perché i risultati non potrebbero essere riproduzati negli Stati Uniti? Ho i miei teori. La mia casa in quei anni. Non è impossibile capire le cose che ci sentiamo. Ma ci crediamo. La scoperta, la ragione di ecstati. L'anglici bambini sono insufficiente. più di speranza. Un pensiero in cui è capabile di cose straordinarie. Stai dicendo che l'esperimento necessitava... la prossimità ai giorni... per l'esercizionale. Solo un soggetto di test che aveva vincitato un po' di horror fosse un po' di ammettare gli antici. E lo credi che i loro soggetti sono ottenuti qualcosa supranaturali? No. E pensi che li ho contattato una cosa supranaturali? Niente è un supranatural. Ovviamente non avremo una risposta Wow Interesting Vediamo cosa ha scritto il nostro Miles Dalla voce Oh cazzo è lunghissimo Dalla voce sembra il fratello anemico Del dottor Stranamore La registrazione È di 25 anni fa Ed è un colloquio Con un certo dottor Wernicol Quello là Con il nome è impronunciabile Lo Salamos Significa lavoro governativo Wernicol Parla di emorragie spontanee Tumori, reazioni psicosomatiche In persone sufficientemente disturbate Direi che Cammina sul filo Fra la scienza e il misticismo nazista Solo le cavie che avevano vissuto Abbastanza orrori Potevano attivare il motore Il motore morfogenico Il motore Il motore Il film che stanno proiettando Mi frulla in testa come Quelle canzoni che non riesci a scacciare Tipo del spasito Una cosa del genere Se sbatti le palpebre Vedo dei test di Rorsk Che sembrano sciami brulicanti Di insetti e tagli chirurgici Perdonatemi Purulenti I pazienti dicono di usare il motore Per evocare il War Rider E il ronzio che sento nelle mie ossa Porca droia La storia si sta infittendo Sempre di più Godetevi il film Io me ne vado Ho sentito delle catene Non ditemi che ci di nuovo Con lo stronzo Dai Stavo proprio per dire La situazione è troppo tranquilla Comunque chi cazzo ha parlato Fatemi capire Qualcuno Dico A parte le 800 persone vive E vegete Che ci sono in questo documento Lava dire veramente le mani Ma non è che l'hanno messo ora Per la situazione copita Questa cosa Comunque Il 19 settembre 2003 Alle 4 e 19 Grant Ha scritto Fascite Fascite necrotizzante Davvero Davvero Io mi licenzio Cazzo Ok Non ho capito Niente Qua è chiusa Va bene avvocato Vado avanti Vediamo che cosa c'è qua sopra Sì però c'è troppo silenzio A me questa cosa non piace Cioè mi dà pure fastidio il silenzio Cioè preferivo quando c'era tutto quel casino della madonna Proprio perché ora me la aspetto un bel jumpscare Proprio è telefonatissima come cosa Cioè non è che è telefonata Proprio ti ha invitato a nozze E lo sapevo Sì però io devo aprire lo stesso No non la posso aprire perché Giustamente il nostro Miles si è cagato sotto Però se non la apro come continua Lei chi è innanzitutto? Ah si è aperta questa porta Vabbè un tizio che mi ha regalato la Sì ma è scappato ma dove? Cioè Dov'è? Dov'è? Sparì Si è demolecolarizzato pure lui Comunque Cioè stai registrando praticamente il film del secolo Ti vuoi fare i soldi Addirittura con le pizze Ah queste sono pizze Le pizze sarebbero praticamente tutti i rullini I rulloni anzi Per Da mettere nel proiettore Per far Per proiettare appunto i film eccetera eccetera Scusami Non ho capito Questa è la zona dove Cioè ora è aperta Ma come cazzo è possibile? Andare qua? Cioè scusa tutto sto giro di stronzate perché? Non capisco Questa è la zona di poco fa Che adesso è aperta Perché le porte hanno un'anima Quindi hanno deciso di Di aprirsi Si ok Ah Una chiave Raggiungi la cappella Vabbè qua le mutande Non mi posso sta fermo Scusate Me l'hanno servita in un piatto d'argento D'oro anzi Sì ma la cappella Cioè Quale cappella? Questo voglio capire Ora la apro e mi fanno cagare sotto No? No? Ok Perfetto Ho sbagliato strada Sì Questa non si apre nemmeno se la preghi Naramaico Qua c'è uno che sta sfondando la porma Donna benedetta Chi sei? Sei il nostro stronzone di quartiere che Chi sei tu? No uno di quei gemelli pisellati là Ma perché ce l'hai tra l'altro? Hai un parallelepipedo Epipedo praticamente No ma perché devi venire verso di qua? Veloci 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 Ok Scappa Chiudi Dall'altra parte si poteva andare? No 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 Quella porta è chiusa Fidatevi Perché? Perché lo so io Ma c'è niente Ricarichiamo la batteria Qui immagino che torniamo indietro ma non è il ca... Ah no siamo tornati indietro Ah perché dobbiamo aprire un'altra di queste porte maledette Che nella scorsa parte mi hanno fatto tirare Gesù Cristo e tutti i santi Non mi ricordo se nella scorsa Non lo so forse un paio di parti fa Buonasera Chi sei tu? Aspetta Sei padre martin? No Che altrimenti mi avresti detto una di quelle tue stronzate allucinanti Ti serve una chiave Cioè la chiave per l'ascensore Ma dai Ci manca solo che devo pagare Per andare a un piano superiore Porta chiusa Non me l'aspettavo si aprisse un'istante Ok Vabbè Ok qui Chi sei tu? Madonna Si tuoni Fulmini Sette Gesù Cristo e la Madonna che scendono Dato che è pure Natale in questo periodo La musica sta diventando più ansiogena Che cosa sta succedendo? Vabbè non credo ci sia niente Cioè questa è praticamente una zona inutile Però è bello che mettano Ah no aspettate c'è una porta Ma certo che sono ciecato Comunque Anche se fosse stata una zona inutile Sarebbe stato bello se Comunque l'hanno aggiunta Perché comunque è un riempitivo A Per rendere il gioco magari più immersivo Eccetera eccetera Vabbè dai Aspetta che aspetto Il nostro caro là Come si chiama? Lo scordo sempre Come si chiama? Aspettate Me lo scordo sempre come si chiama il tizio enorme Che mi segue Walker Chris Walker Ecco Me lo ricordavo Aspetto Chris Walker Così ci facciamo una bella partita A Bliardo Sì effettivamente se non preghi ti fanno pagare il doppio del canone E questo è quello che poi succede Comunque intanto ci siamo appuntati qualcosa Aspettate che lo leggo Visione di preghiera C'è scritto? Di preghiera Di nuovo la visione Un paziente inginocchiato in una preghiera Forse si è bevuto le cazzate di padre Martin Forse sente quello che sente anch'io Ma più chiaramente Forse è il suo modo per andarsene da qui Il prete l'ha chiamato il vangelo di sabbia Prince of Persia proprio gli fa una pippa Per chi l'ha capita me lo scrive nei commenti Vabbè ti lascio pregare in pace dai Non roviniamo la preghiera a questo povero disgraziato No qua ritorniamo indietro quindi dobbiamo andare dritto Forse Sì c'è una crepa Un altro che prega Forse ci stiamo avvicinando alla cappella Ok Avoid contamination Wash your hands Che cosa siamo venuti Uh Sono cagato sotto Tutto veri Fatemi controllare un po' tutte le stanze Metti in caso che troviamo qualcosa di utile Un documento Eccolo qua L'ho appena detto documento Ti giuro non è che l'ho visto e poi Sono un indegno suppliche Suppliche Vabbè scusate Sono un indegno suppliche Il cui unico modo di servire il nostro padrone E' nutrirlo Prendimi wall rider Lascia che l'apostolo del mio pastore Vada e sparga la notizia insieme alle sue bugie In nome Di una verità superiore Quasi di cazzo essa sia Comunque E' giunto il tuo regno La san Vabbè Stavo per nominare La mia carne desidera la tua adorata furia Wow che bello Il mio sangue è pieno di te Attende di essere liberato Questa E' la mia preghiera Scrivi il tuo vangelo nelle mie carni Che schifo Ma Cioè perché devi supplicare Uno che Che ti Ti vuole aprire il culo Quanto un paiolo Cioè Boh Non lo capisco questa Batteria Ok Qui non c'è niente Vabbè Ritorniamo di nuovo nella zona dove c'era la finestra Possibilmente senza rompere Ah qua due addirittura Di solito si prega Tipo in santa pace Invece qua In due Va bene Pregate quanto volete Forse qua mi rompo pure l'anima Aspettate Non è che mi posso Eh come devo fare Ah ok Si metteva No mi sembrava troppo sottile Per andarci Comunque Che cazzo di visuale fighissima che abbiamo qua Certo Non la visiterei mai nella vita reale Se dovesse esistere Ovviamente Però God hates Sickness Ti odia la 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 debolezza God hates money Ti odia i soldi Tu mi hai fatto cacare sotto Tra l'altro Accura Accura significa Stai attendo L'ho detto in Sicilia Alla candela Perché ti sta praticamente Brasando più di quanto già lo sei God Always Provides a way Come l'abbiamo letto Nella scorsa parte E voi due Io non vi guardo Vado diritto Ok A breve la giornata War Rider Quindi ho la chiave Intanto Ma Ti stai sacrificando Praticamente Quanto sei Coglione Dovunque Anche se posso anche capirli Questi disgraziati Perché È tipo l'unica cosa in cui credono Essendo rinchiusi qua Ma grazie Vai Del resto non eri così stronzo Certo Stai appena facendo una delle tue Una cosa È proprio Indicibile Però Ottimo Guarda un po' mi dispiace Vediamo che cosa ha scritto Miles Inventario La chiave elettronica Ah comunque l'inventario Praticamente spunta qua Cioè le cose che raccogliamo Spuntano qua Questa cosa non l'avevo notata La passione di Padre Martin La passione di Cristo La passione di Padre Sembra incredibile Ma Padre Martin Ha superato perfino Gesù Cristo Nella classifica Dei morti di merda Quanto è blasfemo Questa cosa Spero che Molti di voi Non si siano offesi Ma non me ne sbetto un cazzo Comunque La cosa più incredibile È che mi mancherà E cazzo ha detto le stesse cose Che ho detto io Una via d'uscita Se diceva la verità Ora posso andarmene da qui E ho una storia da raccontare Senti Frena Hai capito? Frena Non prevedere il futuro Ok Prima pensa ad uscire di qua Poi racconti la storia Se riesci a raccontarla Vuole che difonda il suo Vangelo Tranquillo Lo dirà a tutto il mondo Ok Comunque mi piace questo Ora siete gentili con me Ne possino Non c'è niente qua Va bene Mi ritorno indietro Comunque io debba andare Non lo so dove devo andare Ah ok Praticamente Quell'ascensore Ora è È accessibile Sì però io come faccio A ritornare indietro Non capisco Non è che qua c'era? No Perché se mi hanno aperto la porta C'era un motivo Ah ok Non l'avevo vista Da questa botola Ma scusate Perché Quella porta era chiusa Se io ero venuto da là? Che cazzo Che cazzo l'ha chiusa? Eh No 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 Non ci siamo capiti Dunque credo che qua sia la zona dove siamo stati poco fa Quindi inutile capo tutte le porte Vado nell'ultima No cazzo forse Forse ho fatto una cazzata Sfondavo la porta Sì grazie Arrivederci No Annaggia la vacca Ora vado dai miei amici Che mi difenderanno adesso Cazzo 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 No aspettate Sto andando nella direzione giusta Ma proprio a caso Dove sono? Ah nella cucina di Cristo Dove eravamo poco fa Ora sfondiamo questa porta Perché lui ne è capace Arrivederci Ah eccoci qua Ok perfetto Ottimo Ok No Non interferenziare Ok se ne credevo Dovesse interagire O non qualcosa Ma non dovevamo andare Oh cazzo Cerco un'altra Questa Cioè stiamo Stiamo finendo il gioco Me l'aspettavo Va bene ragazzi Io mi fermo qua Ci vediamo nella prossima parte Dove A quanto pare Finiremo il gioco Let's go Grazie per aver salito questa parte Spero che il gameplay comunque mi stia piacendo Ci vediamo alla prossima Ciao ciao